Chiara, siamo ormai alle soglie dell'Open Day e l'Adannunzio si sta preparando per accogliere tanti nuovi studenti, sia per le lauree triennali che per le lauree magistrali. Infatti Francesca è una buona occasione per conoscere realtà nuove ed allettanti. I programmi sono ricchi di incontri, seminari e laboratori. Seguiteci sulle nostre pagine social così da essere sempre aggiornati su tutte le novità. In più mi sembra giusto sottolineare l'attenzione che il nostro Ateneo dà alla sostenibilità ecologica utilizzando tutti i materiali riciclabili. Che cosa aspetti? Trova la tua strada e percorrila con noi!